signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale nei mesi scorsi abbiamo parlato del railroad e dell'illusionismo e di come la manipolazione che il master va a fare delle informazioni dietro il suo sipario vada influenzare la narrazione all'interno della quest cosa succede però quando il sipario si alza questa settimana andiamo a parlare di una delle tecniche di masteraggio più comuni probabilmente la più semplice e scontata ma anche la più controversa questa settimana andiamo a parlare del partecipazionismo francamente non so dirvi perché il partecipazionismo sia una delle tecniche che causano più battibecchi in assoluto all'interno del mondo lgdr personalmente non ci ho mai visto niente di male o di strano dietro però andiamo con ordine nel video sull'illusionismo abbiamo parlato della black curtain il sipario ovvero il gap di informazioni che c'è tra il master e i giocatori e che il master può sfruttare per rendere più interessanti le azioni di gioco e manipolare gli eventi in modo da far sempre ritornare la storia all'interno del canone che si era stabilito nel caso dobbiate recuperare il video vogliate rivederlo vi lascio il link qui sopra per quanto il sipario sia un elemento comodo per il master che gli permette di far tornare sempre gli eventi in modo da tenere sempre il gioco interessante ed evitare che la narrazione sa forse si finisca in un anticlimax o che semplicemente i giocatori non sappiano più quello che devono fare non è affatto uno strumento indispensabile anzi a volte è possibile sollevare il sipario e colmare in maniera diretta il gap di informazioni tra master e giocatore quando si parla di partecipazionismo si intende proprio questo cioè quando il master invece di cercare di influenzare i personaggi li scavalca e si rivolge direttamente ai giocatori facendo scomparire questo sipario annullando il gap di informazione tra le due e spiegando direttamente le cose ai giocatori in modo da farli diventare parte integrante non solo della storia ma anche del processo creativo che c'è dietro la storia stessa non c'è niente di esoterico in questa tecnica anzi molto probabilmente qualcosa che voi e i vostri giocatori già fate senza sapere che è una tecnica consolidata il caso più esplicito di partecipazionismo è quando il master si rivolge direttamente ai giocatori per comunicare loro delle informazioni che non avrebbe senso che i loro personaggi sapessero in quel momento della quest o anche solo per comunicare ai giocatori che devono tenere un determinato comportamento perché c'è un motivo per farlo anche senza dirgli qual è diciamo per esempio che il master abbia preparato una quest in cui i personaggi debbono andare a esplorare un dungeon sotto le montagne est ora potrebbe utilizzare una qualche tecnica di illusionismo per spingere i giocatori verso quel dungeon magari lanciare un gancio narrativo in cui i giocatori trovano una mappa del tesoro dove il tesoro è indicato sotto le montagne est o mentre sono alla locanda sentono qualcuno parlare dei favoloso dungeon che c'è sotto le montagne est potrebbe anche utilizzare una tecnica di railroad molto più spinta i personaggi sono convocati alla corte del re e il re gli ordina di andare a ripulire il dungeon dai mostri che lo infestano con tutte queste tecniche il master rimane dietro il sipario cioè fornisce elementi ai personaggi in modo da spingerli a intraprendere un determinato comportamento cioè andare nel dungeon sotto le montagne est però potrebbe anche sollevare il sipario e dire ai giocatori non ai personaggi ragazzi quando uscite dalla città dirigete via est che ho preparato già una cosa oppure limitarsi ad arrivare la sera in cui si gioca dicendo o raga vi ho preparato un dungeon cattivissimo sotto le montagne est pronti che si parte in questo modo avrebbe utilizzato il partecipazionismo al posto dell'illusionismo cioè invece di influenzare i personaggi verso un comportamento avrebbe esplicitamente detto ai giocatori qual è il comportamento che si ritiene che loro debbano tornare cioè andare nel dungeon a est ma avrebbe lasciato che siano i giocatori a decidere liberamente quali siano le effettive motivazioni dei loro personaggi per andare in quel posto questo diciamo che il caso limite del partecipazionismo quando il master si rivolge direttamente ai giocatori per dire loro quello che i loro personaggi dovrebbero fare e come dicevo all'inizio è anche il caso che porta spesso una reazione negativa da parte di alcuni giocatori perché pochi giocatori apprezzano un'infrazione così totale della quarta parete che fa perdere l'immersione nel mondo di gioco fa saltare totalmente la verosimiglianza della storia e tra l'altro rischia anche di andare a influenzare proprio il processo decisionale del giocatore che invece dovrebbe essere lasciato a prendere le decisioni per il suo personaggio da solo è anche vero però che altri giocatori invece apprezzano un comportamento del genere perché lascia comunque loro l'arbitrio sul loro personaggio saranno loro a decidere come andrà la scena però viene evitato il rischio di far perdere il filo della narrazione o anche semplicemente quello di poter prendere le decisioni che portino a rendere la storia meno interessante nel caso comunque prima di utilizzare un metodo di partecipazionismo così esplicito il master dovrebbe prima parlare con il gruppo di gioco e chiedere proprio se questa cosa per loro è tollerabile se gli piace se non gli piace è una di quelle classiche cose di cui bisogna parlare in sessione 0 e la sessione 0 è anche probabilmente il momento in cui si farà più partecipazionismo durante la quest un altro dei metodi classici per usare il partecipazionismo è appunto quello di chiedere direttamente ai giocatori cosa gli piace cosa non gli piace di un'ambientazione di un regolamento chiedere loro se gli piacerebbe vedere qualcosa chiedere loro quali situazioni vogliano incontrare durante la quest e viceversa dire loro quali sono gli atteggiamenti i comportamenti che ci si aspetta da parte loro durante la quest stessa anzi in sessione 0 è veramente il caso che il master faccia un discorso del tipo guardate ho preparato una quest in cui voi siete un gruppo di esploratori scavezza collo che vanno esplorare il dungeon sotto le montagne quindi preparate dei personaggi in linea con questo tipo vi racconto e ditemi poi se c'è qualcosa di interessante che vi piacerebbe trovare sotto le montagne che vedo di inserirlo in quest in qualche modo il caso più comune per usare partecipazionismo però in realtà è quando durante una sessione ci si imbatta in una situazione che per qualche motivo non si è in grado di gestire o quando succede qualcosa che sia veramente inaspettato per il master è molto meglio dire semplicemente a un giocatore no guarda non puoi sfondare i muri perché sennò tutto il dungeon va in malora piuttosto che cercare di accampare scuse e arrampicarsi sugli specchi per negare un'azione che potenzialmente è legittima da parte dei personaggi allo stesso modo dire no guarda non mi ricordo come funziona quella regola fai qualcos'altro che sennò dobbiamo perdere mezz'ora per andare a cercare ed è già tardi in più vi può tornare molto utile quando avete a che fare con dei giocatori magari inesperti del sistema che state utilizzando a cui deve essere ricordato quello che i loro personaggi sono in grado o non sono in grado di fare sistemi diversi gestiscono la stessa situazione in modi magari molto diversi ci sono sistemi in cui ogni singolo movimento del personaggio è un tiro e sistemi in cui un intero combattimento può essere risolto semplicemente da una prova un giocatore che si sposta da un sistema all'altro potrebbe essere confuso e il master farebbe bene a dirgli no guarda in questo gioco è meglio che fai così e non che fai cosà molto di più se questi giocatori non sono gli inesperti del sistema ma sono proprio gli inesperti del gioco di ruolo e che quindi potrebbero rimanere confusi o non capire proprio alcune tecniche di illusionismo molto classiche si lo so che nessuno realisticamente accetterebbe una mappa da uno sconosciuto in una taverna ma è la mappa che serve a farvi capire dove dovete andare e quindi prendila no non prendere la spada la spada va al guerriero per te che sei mago già preparato ve la rompio avanti è comunque un metodo molto veloce per risolvere qualsiasi tipo di impassi o anche per risolvere tutte quelle situazioni in cui o voi avete sbagliato a gestire qualcosa e quindi dovete interrompere il gioco e a questo punto fate prima dire ah no guarda in questa scena doveva crollare il ponte ma avevo capito mai la regola facciamo che il ponte è crollato o anche per svegliare i giocatori che si sono fatti prendere da un volo pindarico dicendo no la vecchia non è il boss di fine campagna fidati non è andiamo avanti diciamo che per questo video è tutto effettivamente probabilmente è una delle tecniche più banali però almeno adesso sapete qual è il suo nome e che effettivamente è una tecnica realmente utilizzata con uno scopo preciso comunque scrivetemi qua sotto nei commenti se voi la utilizzate e se non la utilizzate perché la utilizzate e perché non la utilizzate vi ricordo anche che è uscito il secondo video della rubrica di scrittura collaborativa scrivere una quest per chi se lo fosse perso e per chi vuole partecipare siete ancora in tempo vi lascio il link qui sopra andate a rispondere nei commenti se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao